Se quello che dico non fosse vero, allora mio padre starebbe bruciando all'inferno adesso. Si è meritato il riposo. Ora tocca a me vivere! Eleanor Marx. Ci sono leggende su di lei che resiste a un lungo interrogatorio della polizia. I bambini non devono lavorare! Perché non le dite che ci serve lo stipendio dei figli? Come i lavoratori sono vittime della tirannia degli inoperosi, le donne sono vittime della tirannia degli uomini. Devo lavorare. Il tuo pamphlet è meraviglioso. La donna non sarà più schiava dell'uomo. Non sei stata felice con me? No, non sono mai stata felice. Il futuro è dalla nostra parte. La tua idea di felicità. La lotta. Il futuro è il futuro è il futuro. Il futuro è legato. Mi ha dato. Il futuro è una vita. Grazie.